Eccoci con di fronte la scatola del Galaxy A3, questo interessante smartphone di Samsung che noi abbiamo in versione bianca, solita scatolina con carta riciclata, cosa che apprezziamo sempre in Samsung l'attenzione verso appunto anche un minimo la natura, almeno utilizzando prodotti riciclati andiamo a scoprire il contenuto, troviamo i manuali anche questi in carta riciclata il caricabatterie da viaggio piccolino e il cavetto USB micro USB condiviso col caricabatterie non c'è un auricolare, almeno in questa confezione che ci è arrivata noi non abbiamo un auricolare cuffie da poter utilizzare andiamo a chiudere il tutto e prendiamo lo smartphone come potete vedere lo stile è quello che conosciamo di Samsung abbiamo sempre una struttura sul frontale molto simile al Galaxy S4 molto elegante, molto ben costruito non gli si può dire veramente niente a questo piccolo device a livello di ergonomia ci troviamo su ottimi livelli siamo su uno smartphone che misura 121 mm x 62 x 10 mm di spessore il tutto in 120 grammi di peso veramente ottimo come dispositivo a livello ergonomico forse leggermente scivoloso ma proprio un'inezia proprio il materiale della cover è leggermente scivoloso nella parte frontale abbiamo il tasto di sistema storico di Samsung che probabilmente a questo punto se neanche col Galaxy S5 è stato tolto mai lo vedremo andare via abbiamo questa bellissima cornice cromata plastica però molto ben fatta e abbiamo una cover che si può come potete vedere una cover che si può togliere cosa che ci permette sia di inserire la sim e soprattutto anche di cambiare la batteria cosa che può tornare sempre utile per mettere una batteria magari nuova se questa batteria dopo un po' di tempo risulta essere inefficiente Samsung mantiene questo standard che molti di noi apprezzano andiamo ad accenderlo già acceso quindi ci togliamo un passaggio come potete vedere abbiamo i tasti soft touch di sistema posti qua in basso che si vanno ad illuminare quando lo sblocchiamo andiamo a sbloccare il telefono solita animazione ed eccoci qua come potete vedere sin da subito vi mostro la versione di Android che è la 4.2 Jelly Bean 4.2.2 a livello di aggiornamenti non sappiamo se verrà aggiornato speriamo arrivi almeno Jelly Bean ma più probabile che ci sia un passaggio diretto a KitKat non si sa in che tempi non si sa in che modi speriamo nel più breve tempo possibile come potete vedere questa è la tendina tendina adesso abbiamo diverse notifiche le cancelliamo abbiamo subito la regolazione del sensore della luminosità e le scorciatoie di diversi servizi pur essendo un device di fascia economica abbiamo comunque dei servizi aggiuntivi ma prima di passare a questo ci tenevo a illustrarvi l'hardware a livello di hardware abbiamo un display da 4 pollici molto ben fatto non è AMOLED è un TFT normalissimo 4 pollici 800x480 pixel di buona qualità abbiamo un angolo di visione molto ampio dei colori molto belli molto luminoso più che altro guardate quanto è luminoso sto display anche la luce diretta del sole lo vedremo molto bene neri un po' limitati naturalmente non abbiamo una densità di pixel sopra i 300 ppi ma siamo sui 230 cosa che per chi è abituato a una qualità maggiore si vede subito anche se è un ottimo compromesso a livello di processore troviamo lo Snapdragon 400 Dual Core si comporta molto bene con 1GB di RAM assolutamente non abbiamo trovato grandi lag nell'interfaccia interfaccia molto semplice a volte qualche piccolo rallentamento il touch non è proprio responsivo al 100% in alcune situazioni soprattutto durante la digitazione del testo a volte abbiamo avuto qualche micro rallentamento ma proprio poca poca cosa passerei visto che ci siamo siamo alla schermata principale direttamente a illustrarvi un po' l'interfaccia interfaccia classica di Samsung fino adesso abbiamo l'impostazione dello sfondo l'applicazione di widget cartella e pagine possiamo infatti aggiungere tutte le pagine che vogliamo possiamo aggiungere un widget semplicemente facendo così passando a widget e aggiungendo il nostro carissimo widget come potete vedere ci ha aggiunto una pagina dato che quella era piena anche qui come torniamo alla tendina tendina che come potete vedere ci attiva diversi servizi abbiamo l'NFC abbiamo SBIN per lo scambio di dati possiamo attivare come router wifi naturalmente abbiamo anche lo standby intelligente cosa che non troviamo sempre sui prodotti di fascia media media bassa standby intelligente che utilizza il nostro sguardo per vedere se lo stiamo guardando il dispositivo in modo da capire se andare in blocco o meno con il display magari ci siamo addormentati stiamo guardando qualcos'altro chi lo sa allora tasto home che ci consente molto comodo sempre molto comodo anche se poco utilizzato ormai e che ci consente di arrivare sul multitasking con un solo gesto chiudere singolarmente le applicazioni o chiuderle tutte insieme navigazione internet è più che buona andiamo su Nexus Lab andiamo eccoci qua ok adesso siamo con la visualizzazione normale mobile facciamo vista desktop come potete vedere siamo ricchi di impostazioni vista desktop mettiamo in orizzontale non è proprio un fulmine di guerra adesso siamo sotto rete wifi e una rete anche abbastanza veloce lo smartphone si comporta bene non ha non ha un rendering delle pagine velocissimo ma qua dipende più che altro dal processore che non è una vera e propria scheggia prendiamo questa pagina ci piega qualche secondo finché non l'ha caricata proprio tutta si rischia di avere qualche micro rallentamento la formattazione in automatico del browser funziona bene come potete vedere adesso il dispositivo vede e attiva la funzione per vedere il nostro sguardo e ci sta appunto in questo modo tracciando in modo da capire se stiamo guardando o meno il dispositivo una volta caricata la pagina la velocità è perfetta ci impiega solo un pochino a caricarla dialer dialer classico samsung abbiamo la ricerca veloce in rubrica i preferiti quello che siamo abituati praticamente sempre a vedere in un dispositivo samsung niente di nuovo andiamo a scoprire i messaggi andiamo a comporre un nuovo messaggio come potete vedere il tastiera molto precisa a volte ha qualche rallentamento cioè non ci sta dietro però per il resto è molto precisa naturalmente se venite da un display uno smartphone con un display più grosso dovrete solo un attimo fasarvi noi due o tre giorni che lo usiamo e ormai ci siamo abituati abbastanza bene alla dimensione del display andiamo a scoprire la fotocamera da 5 megapixel con flash led di buona qualità non eccezionale andiamo subito a scoprirla ok fotocamera che presenta tra l'altro anche qualche modalità aggiuntiva cosa sempre molto utile e simpatica eccoci stavamo provando la fotocamera scusate un problema un piccolo imprevisto fotocamera da 5 megapixel con flash led come avevamo visto le modalità scatto un pochino lento l'autofocus foto di qualità abbastanza buona un po' troppo rumore in alcune immagini video buoni campionamento dell'audio altrettanto forse un pochino distante allora andiamo a vedere un altro aspetto le applicazioni preinstallate troviamo il game hub di samsung direttamente collegato al samsung store music hub stessa identica cosa musica invece il player che samsung inserisce in questo ace 3 andiamo subito a sentire così per curiosità come suona l'altoparlante di sistema scusate un minuto pausa allora audio abbastanza buono non tra i migliori della categoria però abbastanza alto come viva voce si sente bene dall'altoparlante invece della capsula auricolare a livello di telefonate si comporta molto bene a livello telefonico troviamo anche s-voice che ci permette la gestione di alcuni comandi vocali che tempo fa domani come potete vedere funziona abbastanza bene un pochino lento nel fasarsi con il con il server di samsung troviamo anche il reader sub con i libri di samsung come in quasi tutti i device samsung abbiamo la doppia versione i contenuti offerti da google e i contenuti offerti da samsung ovviamente ognuno si appoggia sulla propria piattaforma tripadvisor preinstallato abbiamo anche non fateci caso tutte queste applicazioni team che trovano posto perché questo è un telefono brandizzato team andiamo a scoprire un po' la parte multimediale abbiamo i nostri soliti due video partiamo con lavi come potete vedere si vede piuttosto bene l'avi abbiamo anche la possibilità di condividere con bluetooth spegnimento automatico del video ed altre impostazioni a livello quindi di funzionalità con i normali avi nessun problema passiamo al full hd anche qui assolutamente nessun problema di gestione del video anche se molto più pesante in quel caso ci trovavamo di fronte a un mp4 in full hd che dire tirando un po' le somme di questo dispositivo ci troviamo di fronte all'ennesimo samsung un samsung interessante soprattutto se lo si riesce a trovare a un prezzo interessante altrimenti samsung ci ha abituato a un'offerta incredibile a livello di dispositivi soprattutto magari un po' più aggiornato già ad android 4.3 per il resto come device non ha niente da perdere un buon hardware un ottimo display i servizi ci sono tutti il design è il solito samsung che piace o non piace a me sinceramente piace parecchio parte la cover posteriore leggermente un po' troppo liscia possibilità di allargare lo storage degli 8 giga fissi ad altri 64 giga tramite micro sd quindi che dire uno smartphone niente male naturalmente qua come al solito la variante è il prezzo e soprattutto dovete considerare che l'hardware sia a livello multimediale che a livello magari videoludico non è il top per il resto è tutto se avete domande potete affidarvi ai commenti sia del video che dell'articolo un saluto e alla prossima video recensione